La bara di Emanuele Cavallaro è stata salutata da un caloroso applauso all'uscita del cimitero di Piana Traversa. Una folla composta e silenziosa ha voluto rendere così l'ultimo saluto al ragazzo dal cuore d'oro che continuerà a battere nel corpo di un'altra persona, donandogli anche una nuova vita. L'intera comunità favarese si è stretta intorno al dolore della famiglia Cavallaro nel cimitero di via Capitano Callea, anche il sindaco di Favara Russello e gli assessori Vitello e Sorce. Tanti gli amici di Emanuele che visibilmente commossi non hanno saputo trattenere le lacrime, commoventi anche le parole contenute in una lettera che è stata letta in chiesa. Le segue sono state celebrate dal parroco dell'Itria don Alessandro di Fede Sant'Angelo, in coda alla funzione anche il primo cittadino Russello ha voluto rendere omaggio pubblicamente alla famiglia, ricordando il grande gesto di solidarietà che gli stessi hanno compiuto donando gli organi del proprio figlio. Strazianti le urla di dolore dei familiari, che più volte sono stati interrotti dagli applausi dei presenti. Applausi che non solo danno conforto ai genitori, ma che fanno di Emanuele un esemplare cittadino favarese morto tragicamente a vent'anni.